Per questo cocktail, innanzitutto, raffredderemo per bene il nostro mixing glass. Useremo il bicchiere Polygon. Aggiungiamo qualche cubetto di ghiaccio cristallino. La preparazione è molto semplice. Rum invecchiato. 40 ml. 40 ml di bitter wrapper. Gocce di assenzio. Una bella miscelata. Una volta che il nostro cocktail è ben freddo, lo passiamo nel nostro bellissimo bicchiere. Completiamo il nostro drink con spumante brutto. E ora il tocco magico. Questo cocktail, Rainforest, verrà completato con una nuvola. Realizzata con un liquore alle erbe. La nostra nuvola la poggiamo direttamente sopra al bicchiere. e pioverà direttamente nel cocktail. Rainforest. Raffreddare. Pag. Rezzate. Pag. Raffreddu. Pag. Grazie.